Il corso presso il maniero medievale di Favar è stato presentato il libro La dieta perfetta edito da Open Work del biologo nutrizionista Salvatore Baiamonte in collaborazione con lo chef Joseph Puma che ne è anche il coautore. Sabato c'eravamo anche noi le interviste. In questa cornice perfetta del castello Chiaramontano oggi siamo qui a presentare questo libro che il nostro cittadino, il dottor Salvatore Baiamonte, sta presentando alla città. Il testo La dieta perfetta è un testo che racchiude in tutta la sua inderezza attraverso dei consigli e dei dispositivi le norme comportamentali che danno la possibilità di fare una corretta alimentazione. una corretta alimentazione che risulta essere elemento basilare per una vita serena e una vita tranquilla. L'autore è stato veramente preciso e questo manuale, questo libro, penso che aiuterà molti nostri concittadini ad affrontare questo problema che oggi ci interessa in modo particolare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della salute. Tengo a precisare che questo libro tra un autore e anche un coautore che è lo chef Joseph Puma che mi ha aiutato tanto e qui lo ringrazio ufficialmente. Voglio anche precisare che la dieta perfetta non è un titolo provocatorio in quanto voglio semplicemente dire che non esiste un alimento perfetto esiste la rotazione degli alimenti in quanto i 40 nutrienti fondamentali si trovano tutti gli alimenti quello che consiglio è di ruotare questi alimenti. Una cosa importante che voglio precisare è che la dieta perfetta non è un titolo provocatorio ma è un titolo che ha scelto il mio editore perché ha capito meglio di me quello che vuole dire il libro. Infatti anche se non esiste l'alimento perfetto esiste un bilanciamento energetico perfetto. Questo bilanciamento energetico perfetto, io dico nel mio libro come si fa ad ottenerlo e le persone possono ottenere questo bilanciamento seguendo dei semplici consigli. Allora, sono molto delusingato dall'essere stato precaente invitato per la presentazione di questo libro. Io sono un collega del dottore Baiamonte e sono molto contento che sta andando tutto per il verso giusto. Devo dire che precaente siamo d'accordo perché oggigiorno sul concetto di dieta mentre prima si parlava di dieta come precaente un regime alimentare ristretto oggi si può parlare di dieta come una precaente corretta alimentazione costituita da sani precaente e principi nutritivi. La dieta perfetta è un'unione di vari punti. Un punto che è le condizioni fisiologiche, patologiche e climatiche in cui precaente vive un soggetto. E precaente l'unione dipende delle regole fondamentali per una dieta quale precaente è una corretta masticazione e non bere l'acqua durante i pasti. E un'unione anche precaente è un altro punto importante e soprattutto riguarda le cotture. Si devono seguire delle cotture corrette, non come si usa spesso nelle nostre precaente cucine con delle fritture. In tutto ciò appunto si viene a formare la classica dieta perfetta come porta regalmente il titolo del libro del collega Bayamonte. Sotto precedente indicazione del dottore Bayamonte, tra l'altro anche un amico, diciamo che mi sono prodigato a sviluppare alcune ricette che si trovano all'interno di questo manuale molto semplice da preparare, succulente e da proporre facilmente in tutte le tavole. Ho trattato alimenti abbastanza poveri ma allo stesso tempo molto ricchi, ingredienti che troviamo comunemente nella dieta mediterranea, una volta che sappiamo un po' tutti che questa dieta diciamo che ci fa vivere più a lungo e riesce un po' a dare tutti quegli elementi per far sì che si viva in maniera abbastanza salubre. Ho sviluppato alcune ricette spaziando dal pesce, la carne, verdure, vegetali, un po' l'olio che è il condimento sovrano delle nostre tavole che troverete tutto in questo volume e quindi non posso augurare che una buona vettura.